Buongiorno, 1 a 0, Rossinese Ponte Carrega 1 a 0, il tuo commento? È stata una partita molto combattuta, una squadra molto preparata, che secondo tempo forse è un po' calata, noi siamo rimasti sempre sul pezzo perché siamo sempre abituati ad allenarci qua a un campo pesante. È stata una bella partita, una bella partita tosta, sono tre punti che mettiamo in cascina e guardiamo solo... Andiamo avanti? Andiamo avanti, partita per partita, non ci poniamo obiettivi e... La salvezza diciamo? La salvezza, una salvezza tranquilla. Perfetto, quello che vogliamo. Buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci, grazie.